Allora, Web Builder è in inglese e noi dobbiamo andare a scaricare la traduzione in italiano per appunto averlo in italiano, per avere i menu in italiano, quindi che cosa fare? Questo video serve esattamente per chiarirti dove si trova precisamente la cartella di installazione di Web Builder Allora, premetto che il mio sistema operativo è Windows 7, quindi la cartella programmi che vedremo, magari a te potrà chiamarsi in una maniera leggermente diversa. Dunque, dove è la cartella di installazione di Web Builder? Allora, io sono qui all'interno del mio computer, ho aperto l'esplora risorse di Windows clicco sull'icona del mio disco rigido e scorrendo in basso trovo la cartella che appunto su Windows 7 si chiama Program Files X86 che è la cartella dove andrai ad installare la maggior parte, quasi tutti i programmi quindi adesso navigo all'interno di questa cartella fino a trovare la cartella di Web Builder Allora, sono andato ad espandere il contenuto della cartella e scorro in fondo appunto fino a la cartella di Web Builder Eccola qui, come puoi vedere in fondo è in... trovo la cartella dove è installato Web Builder Allora, faccio clic su questa cartella e qui mi viene mostrato tutto il contenuto all'interno della cartella appunto di dove è installato Web Builder quindi ogni volta che nel video tutorial sentirai un riferimento alla cartella di installazione di Web Builder dovrai fare riferimento appunto a questa cartella qui in questa cartella è installato il linguaggio italiano per tradurre Web Builder dall'inglese ecco qui il file che io ho inserito in questa cartella si chiama italian.lng questo è il file che si trova all'interno del pacchetto compresso che hai scaricato dal sito madre di Web Builder poi torniamo all'interno di questa cartella dove è installato il programma adesso andiamo a vedere un'altra cartella importante che viene creata all'interno della cartella documenti durante l'installazione di Web Builder allora, eccomi all'interno della cartella documenti sul mio computer e come puoi vedere ho una cartella che si chiama YCY Web Builder perché anche questa cartella è importante andiamo a vederlo allora, clic e questo è il contenuto all'interno della cartella all'interno di questa cartella quella cartella per me è importante è la cartella System perché all'interno ci sono altre cartelle a cui farai riferimento durante il tuo percorso con Web Builder come puoi vedere sono le cartelle Stencils che sono le cartelle dove puoi inserire gli stampini in italiano diciamo gli stampini che danno una forma fantasiosa un po' diversa alle immagini oppure ad esempio qui puoi inserire dei templates da utilizzare poi in Web Builder qua potresti inserire delle immagini qua potresti inserire dei disegni qui vengono inserite da Web Builder le estensioni queste le estensioni ti ricordo sono a disposizione solamente di chi acquista la licenza di Web Builder in ogni modo questa breve spiegazione era per farti vedere le due cartelle che riguardano Web Builder più importanti